In questo momento in Siberia ci sono oltre 400 incendi che nessuno riesce a spegnere. Io alcuni anni fa sono stato in Siberia e ricordo in particolare una città avvolta dalle nubi perché c'era questo problema degli incendi a centinaia di chilometri di distanza che bruciavano da mesi. Ecco allora nessun mass media occidentale riportò la notizia forse perché quegli incendi erano più modesti di quelli di oggi o forse perché oggi l'opinione pubblica è un po' più sensibile al tema. Detto questo secondo me noi non dovremmo limitarci a parlare di queste cose solo quando ci sono le emergenze dovremmo parlarne ogni giorno perché bruciare non è solo la Siberia è l'intero pianeta terra a essere in emergenza o meglio è la razza umana a essere in emergenza e poi smettiamola di parlare iniziamo ad agire a fare qualcosa in prima persona noi tutti dobbiamo al più presto cambiare i nostri stili di vita altrimenti sarà sempre peggio